Buonasera, siamo qui a presentare il prossimo convegno che lo scrittorium foro giuliense organizza con la ADI, Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana. Abbiamo ospite qui oggi il dottor Claudio Lucas, buonasera, che ci illustrerà i temi che si andranno a trattare durante questo convegno previsto per il 12 ottobre 2018 presso il Castello di Ragonia e chi saranno i nostri relatori. Prego dottor Lucas. Grazie dell'invito, grazie per poter diffondere la notizia di questo importante convegno che è importante per i contenuti e per l'estensione. Abbiamo avuto la fortuna, grazie a dottor Giurano, di avere la disponibilità del Castello di Ragonia, che è veramente un unico nel Friuli che penso pochi conoscano e che solo quello varrebbe la pena il viaggio per venire qui a Ragonia. Ma comunque l'altro ottimo motivo è questo convegno di nutrizione clinica, che grazie alla solidarietà fra l'ADI, Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica, il Fadoi, che sono i medici internisti del Friuli Venezia Giulia, il Comune di Ragonia e lo scriptorium rappresentato dal dottor Giurano, siamo riusciti a mettere su questo convegno. E questo convegno è importante perché? Perché tratterà un convegno di alto spessore, ma non per questo non adatto anche a un largo pubblico, perché avremo dei relatori eccezionali, i quali sono abituati a fare conferenze anche per le persone non addette ai lavori, quindi il linguaggio usato sarà in minima parte tecnico per i tecnici, però in larga parte fruibile da tutte le persone. Questi relatori sono le massime autorità qui nel Friuli Venezia Giulia, ma abbiamo anche le autorità che vengono dall'Italia e rappresentano organizzazioni, ricerche scientifiche, università, da Napoli, da Padova, e quindi avremo veramente il massimo della tecnica e dei progressi che si sono compiuti in questi ultimi anni nell'ambito della nutrizione e nella fattispecie per il verso che concerne la terapia con la dietetica e soprattutto la prevenzione per affrontare il problema di un invecchiamento di qualità, visto che siamo composti in una popolazione che sta progressivamente invecchiando. Parleremo dei prodotti del Friuli Venezia Giulia che si inseriscono a piena dignità nell'ambito della dieta mediterranea, parleremo di celiachia, quello che si crede tale e non, e poi quelle che sono le attuali conoscenze e previsioni nell'ambito della dietetica che si fanno in sede nazionale ed internazionale. Quindi è veramente un'occasione che consiglio di non perdere sia alla popolazione sia anche ai medici in quanto questo corso è targato ECM, quindi vagliato anche come qualità dagli organi preposti a livello nazionale e ministeriale e ne vale veramente la pena. Grazie mille Dottor Lucas per essere stato qui oggi con noi a presentare questa bella iniziativa e vi aspettiamo i numerosi venerdì 12 ottobre 2018 per tutto il pomeriggio fino a sera presso il Castello di Ragonia.